Adesso vi faccio vedere anche Vittoria Leone perché so che voi aspettate solamente loro abbiamo iniziato il video un po' al contrario facendo vedere Pablo come si diverte al mare Chiara Ferragni è al mare con Veronica Ferraro ed i suoi figli guardate io lo so dico sempre che dove vanno i Ferragni va il sole ragazzi miei credo che stiano in Liguria ma mi darete conferma voi allora qua sono ancora a Milano queste sono foto milanesi e vi farò sapere passo passo questa Valentina Ferragni che non riesce a truccarsi in macchina ma si trucca sicuramente meglio di me io neanche a casa con lo specchio riesco a truccarmi vi farò sapere più tardi dove è esattamente Chiara Ferragni e credo sia un po' meglio oggi sia un po' rasserenata vi lascio così ciao